Fammelo ripetere ancora, Cam. Sono un supereroe, ma anche un uomo che si è innamorato della donna sbagliata. Un uomo che si è innamorato della donna sbagliata. Della donna sbagliata. Ma da una crisi al nostro cambiamento. Perciò ho passato l'ultimo anno cercando di riconnettermi con me stesso. E sapete, non vedo l'ora che tutti conoscano il vero me. C'è qualcosa che non va in patriota. Qualcosa di rotto. Si è completamente bevuto il cervello. Amore. Una mamma del papà. Boccia. Ehi, ciao. Sei rimasto in riga per tutto l'anno. Nessun super ammazzato, niente alcol. Obedisci a Hughie Campbell senza strangolarlo. Adesso però sei crudele. O magari non sei poi così strozzo. La gente ama i superpoteri. Ma il vero potere non è questo. È la capacità di piegare il mondo al proprio volere. Patriota! È guerra aperta. Credevo di battere la vota legalmente, ma è tutto finto. Dobbiamo fare a modo tuo. Non abbiamo altro. Dipende da noi. Forse ho qualcosa per te. Magari potremmo usarla per far saltare quella cazzo di testa patriota. Che cos'è? Ti fa diventare un super per 24 ore. Ti servirà. Il senso di quello che facciamo è che nessuno dovrebbe avere questo genere di poteri. Per una volta giocheremo alla pari, cazzo. Io ho mostrato il vero me. E le persone mi venerano, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo! Cristo santo, soldatino! Aspetta!